German Dennis, soddisfazione è segnare un gol innanzitutto, se poi lo si fa anche a San Siro e contro il Milan, forse la gioia è doppia? No, sicuramente la gioia è tanta, però l'importante qua erano i tre punti, ci volevano perché era un bel po' che non riuscivamo a avere una vittoria al trasferta, quindi siamo molti contenti. E poi battere il Milan dà sempre una soddisfazione particolare, è una delle grandi del calcio italiano, che vada bene o che vada male? Sì, sicuramente non è da tutti i giorni, siamo stati bravi a piantare quel schema che abbiamo praticato durante tutta la settimana e è uscito benissimo. È uscito bene, l'Atalanta non ha mai avuto problemi perché il Milan non l'ha mai impensierita bene la difesa, bene il centrocampo, bene l'attacco. Sì, in tutte le linee, importantissime, se una squadra è così compatta e noi facciamo l'Atalanta quello che siamo stati fino adesso, sicuramente le altre squadre faranno fatica. German, l'affetto del pubblico, quanto è importante? Avevi dei tifosi particolari a San Siro che ti sostenevano, tuo figlio Mattias con un bel due aste, Vamos, German e altri ragazzini e poi avete avuto un'accoglienza a sorpresa al vostro rientro. Sì, è bellissimo, bellissimo perché sentiamo sempre il sostegno della gente che in questi momenti difficili avevamo bisogno, quindi contenti, contenti. Poi mio figlio lo ha vissuto in una maniera speciale con tutti gli amici e vincere a San Siro non era niente facile. Ecco German, quanto è importante per te? Perché quando un attaccante non segna, risente un po' di queste situazioni, però German è sempre riuscito a restare tranquillo, sereno e a lavorare, come si dice? Sì, quello che dico sempre, alla fine il lavoro paga, sicuramente era un periodo di difficoltà, però sinceramente mi sentivo bene fisicamente, però mi mancava soltanto il gol. Però devo continuare a lavorare, a cercare di dare il massimo per l'Atalanta che è quello che conta. Adesso c'è questa partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, poi un'altra trasferta, campionato a Verona, inizia il girone di ritorno contro l'Ellas. Sì, pensiamo già a Firenze che è quello che ci interessa adesso, sicuramente sarà una partita difficilissima, dobbiamo essere giusti, dobbiamo avere in testa e cercare di giocare in maniera che abbiamo fatto a San Siro, però con la consapevolezza di che loro sono una grande squadra e non possiamo distraerci.